Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi se lo avete ancora fatto, benvenuti nella casa del Milan e dei Milanisti e lasciate un bel like se apprezzate la parete, il canale, se pensate che il Milan sia comunque, nonostante certi personaggi che passano, la cosa più importante, tra le cose magari meno importanti, extra affetti familiari, però il Milan è il Milan ragazzi, quando uno ti dice come va, in questo momento io dico ma sono malaticcio e poi c'è il Milan che va male, cioè lo considero come una cosa importante, altro che cose meno importanti e quindi è un fattore che nel bene o nel male condiziona un po' anche un po' il nostro stato d'animo, ci teniamo tanto, questo è evidente ed è un peccato che chi ci rimetta sia chi ci tiene tanto, ecco, questo è un po' il sentiment, questo senso di, non dico di impotenza, però di, come dire, di finire poi nella parte lesa, ecco, questo è l'aspetto che mi sembra evidente. Ci sono delle voci per certi verse clamorose, parto subito con un messaggio, ne ho ricevuti tanti, mai come in questi giorni c'è un boom di commenti, no, è giusto perché Milanello è anche una community in cui ci si sfoga, in cui è permesso sfogarsi, in cui si deve, si deve sfogarsi, si deve sfogare e voglio leggere un messaggio di Amare Kerr che scrive è incredibile che Pioli lavori ancora con noi un disastro da 18 mesi. Credo che questo, come tanti altri messaggi, racchiuda alla perfezione, ecco, il tema Pioli, che è un tema, non è l'unico tema, per me lo sapete, è il grande tema da diverso tempo, ci sono anche altri temi, ma è il tema. E non so se maschio o femmina, se lei o lui ha scritto questo messaggio, però lo rappresenta benissimo, in poche parole, è incredibile che Pioli lavori ancora con noi, questo è incredibile, un disastro da 18 mesi. E' evidente, cioè, è un messaggio di una semplicità, ma di una realtà disarmante. Pensate che, senza pensare ai 18 mesi, no, pensiamo ai 12 mesi, quindi all'anno solare che si sta per concludere, fortunatamente, non è stato un grande anno, ecco. Il Milan, nell'anno solare, ha vinto meno della metà delle partite giocate, con tutte le competizioni, meno della metà delle partite. Ha disputato 51 gare, ne ha vinte appena 22, ne ha perse 16, i pareggi sono 13. Quindi, ora, significa che su 102 ne ha vinte 44, significa che ha vinto soltanto il 42% delle partite giocate, pochissimo, e che ne ha perse 16 su 51 significa che ha perso il 30% delle partite giocate, tantissimo. Ah, attenzione, se ti chiami Milan, eh, perché se ti chiami, che ne so, Fiorentina, piuttosto che, non lo so, Atalanta, sono numeri che ci possono stare. Se ti chiami Milan, no. Noi, nel 2023, abbiamo fatto schifo, pena, malissimo. Pensate, oltretutto, che quando abbiamo perso, la media, diciamo così, soltanto in Serie A, abbiamo perso 10 volte nell'anno, no? E abbiamo concesso qualcosa come 27 gol per una media di 2,7 partita. Una sensazione di fragilità clamorosa. Significa che quando perdiamo, non solo ci limitiamo a perdere magari, magari, se si perde, perdere magari di poco, 1-0, no. Perdiamo male, perdiamo la testa. Segno di una fragilità mentale incredibile. E tutto, tutto è da ascrivere a chi guida questa squadra. Obiettivamente, l'altra volta, ci eravamo lasciati con un compitino, vi chiedevo, ditemi una cosa buona che sta facendo Pioli nel Milan, che ne so, qualcosa che sta facendo bene, fase difensiva, attacco, sta valorizzando questo giocatore. Ditemi un fattore positivo quest'anno di Pioli. Quindi, purtroppo, abbiamo consegnato tutti il compito bianco, perché non c'è stato un tema diverso da poter svolgere. Compito bianco. E questa volta non vi faccio neanche la domanda, perché la situazione, se possibile, rispetto a due settimane fa, tre settimane fa, è anche peggiore. È un gran peccato, e torno al messaggio, è incredibile che Pioli lavori ancora con noi dopo questo disastro. Quinti in campionato lo scorso anno, quest'anno siamo a nove punti dal primo posto, in Champions League serve un miracolo, e non voglio più andare avanti. Ecco, però, come vediamo noi i numeri, non possono non vederli gli altri che sono in società. Siamo arrivati a, di fatto, 12 mesi, 11 mesi, pessimi, in cui lui comunque è rimasto lì. Non solo è rimasto lì, attenzione. È rimasto lì con ancora più poteri. Essendo ancora più centrale nel progetto, qualcosa davvero che ti rende, ti senti impotente perché vorresti cambiare le cose tu, ma noi non possiamo, non abbiamo questa facoltà. Se non quella di esprimere il nostro punto di vista e il nostro parere. Che cosa succede? Succede che, a livello di infortuni, il Milan è un disastro. Pioli e il suo staff. A livello di gioco, il Milan è un disastro. Il Milan è una squadra che gioca male. E anche quando vince, vince con la giocata del singolo. Non frutto di azioni, di gioco ben collaudate. Se vi chiedessi oggi di descrivere, ecco, un nuovo tema, provate a descrivere oggi il gioco del Milan. Sarve stato un tema bellissimo due anni fa. Oggi è un tema che è brutto da sviluppare. Il Milan è una delle squadre che gioca peggio, secondo me. Pur avendole risorse importanti. Testa dei giocatori, malissimo. Il Milan, li vedete, i giocatori, scendono in campo spesso impauriti, demotivati. Dopo l'intervallo, quando dici dovrebbero dargli una strigliata, dovrebbe dare Pioli una strigliata, scendono in campo peggio di prima. Prendiamo un sacco di gol nell'ultima mezz'ora. Abbiamo cinque espulsioni in questo campionato. Quindi anche il fattore mentale è di una fragilità estrema. Non soltanto perché quando perdiamo, perdiamo male. Non soltanto perché quando bisogna tenere il risultato o comunque avere la reazione, andiamo ancora più in basso. Ma anche perché i nervi sono tesi. Lo dimostrano queste cinque espulsioni. Cinque cartellini rossi, unica squadra in Serie A. Significa che non ci sei con la testa, sei sull'orlo di una crisi di nervi. Perché vedi un disastro. Perché non riesci più a seguire il tuo allenatore. Quante ne ha combinate quest'anno? Oltre ai cambi, pensate a Romero. Pensate a quello di Nese 4-4-2 mai provato. Pensate anche a livello tattico, i terzini che vanno a fare le mezze ali. Pensate al fatto che lui stesso dice quest'anno Teo non può più andare a sfondare perché giochiamo diversamente sulla sinistra. Laddove lo scorso anno avevamo una fascia che funzionava a memoria benissimo. Invidia di quasi tutte le squadre europee, se non tutte. E' andato a toccare anche quella catenale, l'unica cosa che funzionava. Poi, l'altro giorno, nel diario horror, ci finisce pure Loftus Chic sottopunta. A supporto di Giroux. Cioè, non trequartista come concetto centrocampista che prova a fare un po' il guastatore. Che comunque dà una mano al centrocampo. No, era lì, gli ha detto, tanto lui dice un paio di volte, ha detto, non ho capito dove devo giocare. Cioè, non gli sembrava vero. Lì, rifinitore, vicino a Giroux, che quasi doveva fare la seconda punta. Ma vi rendete conto? In tutto questo si è deciso di non decidere più volte, quando noi auspicavamo un cambio. Abbiamo anche contestato ieri il silenzio assordante di un club che evidentemente veicola un messaggio. Cioè, a noi va bene così. Siamo nei primi quattro posti. Chi se ne frega, dai tutto il resto. Però, c'è un però. Iniziano a esserci, fortunatamente, delle voci diverse rispetto al solito spartito. Cioè, al solito Pioli non è in discussione, anche quando abbiamo perso male col Dortmund, e Derby, e Udinese, e Juve, pareggiato con Napoli, rimonta, pareggiato con la Cerimonte, eccetera, eccetera. Però, davvero, che cosa abbiamo dovuto sopportare noi negli ultimi 12 o 18 mesi, come dice l'amico o l'amica? E lui è ancora lì. Questo è assurdo. Ora, però, iniziano ad esserci voci, definirei clamorose, visto l'andazzo e il trend, secondo cui, finalmente, questa volta, Stefano Pioli sia in discussione. Finalmente, anche sopra, forse, si sono accorti che non si può più andare avanti così, che è il caso di approfondire, riflettere, cambiare, e chi se ne frega dell'orgoglio, della reputazione, della questione di principio, perché loro avevano fatto questa scelta di mandare via Maldini, che voleva mandare via Pioli, e di promuovere Pioli, riconoscano l'errore e lo mandino via. Ecco, non è ancora un esonero concretizzato, però, da quello che trapela, ecco, la gara con Newcastle pare, usiamo il condizionale perché finché non lo vedo, non ci credo, pare possa essere decisiva. In che senso? Attenzione. Nel senso che, se il Milan vince, e va avanti in Champions League, Pioli a quel punto non si tocca più. Anche dovesse andare male poi domenica col Monza. Secondo scenario. Il Milan vince, ma il PSG non perde, e quindi il Milan va avanti in Europa League. Cosa che io auspicherei, nel senso che è una competizione che in condizioni normali e con un tecnico diverso sarebbe anche alla portata poter provare a vincere. Oggi ci sono tanto Liverpool, che non è il Liverpool degli anni scorsi. Secondo scenario, quindi, il Milan va in Europa League. A questo punto, da quello che risulta, il Milan non cambierebbe Pioli. Ok? Quindi continuerebbe con Pioli. Poi è chiaro che se va male anche col Monza, lì le cose possono cambiare. Quindi è un po' una via di mezzo rispetto allo scenario 1 e allo scenario 3 del quale adesso andiamo a rappresentare. Cioè, il Milan non vince con Newcastle. Pareggia o, peggio, ancora perde. A quel punto, stando così le cose, la posizione di Pioli sarebbe finalmente, e purtroppo in maniera anche clamorosa, perché dovrebbe essere normale, ma se lo diventa dopo una vita è clamoroso, ha rischio esonero. A quel punto, ecco, le colpe di un fallimento stagionale acclarato, Milan fuori dallo Scudetto a dicembre, se non a novembre, Milan fuori dall'Europa a dicembre, fuori dal girone, ultimo nel girone, a quel punto le colpe verrebbero attribuite a Pioli da parte della proprietà, che quindi andrebbe incontro a un esonero, non dico certo a oggi, però, ecco, molto più probabile rispetto allo zero cosmico che c'era prima. Per me questo è già un passo. Poi non sono quello che spera di perdere per cacciarlo, io spero sempre di vincere, perché questa è la cosa sempre che conta di più, la maglia, il Milan, quel logo lì, indipendentemente da chi sta in panchina. Spero di vincere, ma il che vada di andare in Europa League, è chiaro che poi io cambierò allenatore anche se vai in Europa League, perché se hai una possibilità di provare ad andare fino in fondo, eventualmente, è senza Pioli in panchina. Quindi, la notizia è che se il Milan finirà fuori dall'Europa, è mercoledì, ecco, mercoledì notte e giovedì mattina saranno ore di riflessioni profonde, di decisioni, ore di riflessioni che non sono mai state fatte oggi per mancanza di coraggio, di volontà, ma che a quel punto, secondo alcune informazioni in nostro possesso, dovrebbero diventare di estrema attualità. Poi non significa che lo cambieranno sicuramente, però almeno affronteranno il tema, valuteranno i pro e i contro, dipenderà anche molto da che tipo di partita avrai fatto, da come sarà andata, se hai giocato in maniera dignitosa oppure no, quindi ci sono delle variabili, però a quel punto, finalmente, il fascicolo Pioli sarà messo sul tavolo e non nascosto sotto i cassetti, affrontato per capire il da farsi. Magari a quel punto farebbe comodo anche a loro giustificare il fallimento dando le colpe a Pioli. Ecco, pensare male si fa peccato, però, l'importante è che se andrà così verranno prese decisioni importanti. Quali? Andremo a approfondirlo ovviamente in uno dei prossimi video, però ragazzi, davvero, io ribadisco, rileggo, è incredibile che Pioli lavori ancora con noi un disastro da 18 mesi. Questo è da stampare, da incorniciare. È incredibile, è stato così, vediamo se giovedì sarà ancora lui l'allenatore del Milan. Per quanto mi riguarda, lo sapete, e per la grande maggioranza di voi, non deve essere più l'allenatore del Milan da diverso tempo. Abbiamo elencato elementi, gli infortuni, forse non l'ho detto prima, la testa dei giocatori, le gambe dei giocatori appunto, il livello tattico, l'aspetto motivazionale, l'aspetto comunicativo, è un disastro da 18 mesi. punto a capo. Speriamo, ripeto, la notizia che questa volta la società pare mettere in discussione se non andrà avanti in Europa. Poi è giusto legare il tutto a una partita, sì oppure no? Scrivetelo qui sotto nei commenti e ditemi anche che cosa fareste nell'immediato se la situazione precipita. Approfondiremo in uno dei prossimi video, commentate, lasciate un like, iscrivetevi, è una notizia clamorosa che mi fa sperare che davvero questa volta dovesse andare male anche questa volta non si nasconderanno e metteranno la faccia con una decisione forte. La speranza è questa, la notizia pare essere questa. Un saluto a tutti, ci vediamo più tardi.